La valvolopatia mitralica rappresenta una delle più frequenti patologie strutturali cardiache. La patologia degenerativa, che comprende il più comunemente chiamato prolasso della mitrale, è l'eziologia più frequente nei paesi occidentali di insufficienza mitralica. La chirurgia è lo standard di trattamento della valvolopatia mitralica e si associa ad ottimi risultati. In particolare, la chirurgia conservativa, la cosiddetta plastica valvolare, risulta essere superiore alla chirurgia sostitutiva o protesica, sia nei risultati a breve che a lungo termine, con miglior preservazione anche della funzione cardiaca a distanza, e viene comunemente eseguita con accesso sternotomico. Tale chirurgia viene eseguita rutinariamente nel nostro centro con accesso mini-invasivo, mini-toracotomico, toracoscopico, video assistito, con la stessa efficacia a breve e a lungo termine sulla valvolopatia dell'approccio convenzionale sternotomico, ma con indubbi vantaggi per il paziente. Tale riduzione dell'accesso chirurgico è stato reso possibile nel tempo grazie allo sviluppo di uno strumentario dedicato e dai supporti di viso assistenza che non richiedono più la visione diretta della valvola durante la riparazione chirurgica. Dal 2006 al 2020 sono state eseguite oltre 1.700 procedure chirurgiche mini-invasive nel nostro centro, con una frequenza in costante aumento di oltre 150 procedure mini-invasive toricoscopiche annuali negli ultimi anni. Tale casistica comprende anche casi complessi a rischio chirurgico aumentato per chirurgia, come ad esempio un'incidenza di precedenti interventi cardiochirurgici del 25%. Più nello specifico, dal 2006 al 2020 si sono eseguite oltre 650 chirurgie riparative mini-invasive ricostruttive della mitrale ad eziologia degenerativa, garantendo una percentuale di riparazione efficace pari al 90% a distanza di oltre 10 anni. Di queste vorrei sottolineare che il 50% sono state ricostruzioni mitraliche mini-invasive complesse e che con questo approccio mini-invasivo possono essere associate anche altre chirurgie, quando indicate, come ad esempio la chirurgia tricuspidalica e quella abletiva della fibrillazione atriale, anch'esse con ottimi risultati che si sono mantenuti stabili nel tempo. L'estensione dell'indicazione all'approccio mini-invasivo di routine alla mitrale è stato reso possibile anche dallo sviluppo di un teamwork dedicato mirato alla patologia mitralica, che non si limita all'attività in sala operatoria. Anche grazie a quello che abbiamo definito il tailoring approach, che prevede una valutazione della patologia e delle caratteristiche del paziente, anche con uno studio tc angiografico dell'aorta e dell'assilieco femorale, e quindi la scelta personalizzata della sede di cannulazione per la circolazione estracorporea e del tipo di clampaggio transtoracico endo-aortico più idoneo in base alle caratteristiche clinico-strumentali del singolo paziente, raggiungendo in tal modo una bassa incidenza di complicanze neurologiche e vascolari che avevano messo a suo tempo in discussione questo approccio. Varie opzioni di clampaggio cioè di chiusura della aorta e protezione miocardica durante la chirurgia mitralica mini-invasiva sono disponibili ed utilizzate nel nostro centro, che variano da un clampaggio diretto esterno transtoracico della orta a quello dall'interno con l'utilizzo di un pallone oclusore. Quest'ultimo, l'endoclampaggio periferico, il cosiddetto ICF intraclude, di cui non esistono prodotti alternativi, rappresenta un device importante nell'armamentario chirurgico mini-invasivo. Esso consiste nell'introduzione dall'arteria femorale comune di un endoclampo, un pallone, che va a occludere la aorta ascendente e permette di fornire un campo operatorio mitralico esangue e di proteggere adeguatamente il cuore durante l'intervento mini-invasivo. Tale sistema presenta per noi numerosi vantaggi, consente di evitare manovre di cannulazione o di manipolazione della aorta che possono essere traumatiche, limita l'apertura del pericardio alla sola zona degli atri necessario per l'accesso alla valvola mitrale, evitando così l'esposizione della aorta, minimizza l'accesso torracoscopico, consentendo l'accesso solo degli strumenti necessari per la riparazione della mitrale e risulta particolarmente vantaggioso soprattutto nei reinterventi che hanno già avuto un accesso pericardico e spesso si associano a tenaci aderenze pericardiche. In conclusione l'accesso mini-invasivo oltre che essere vantaggioso per il paziente garantendo un minor trauma chirurgico con un più rapido recupero funzionale, nella nostra esperienza ha consentito un ottimale trattamento chirurgico della valvulopatia mitralica con stabilità della riparazione superiore al 90% a oltre 10 anni anche nelle riparazioni complesse e ha permesso inoltre il trattamento delle patologie associate quando indicato con risultati a distanza stabili anche della chirurgia tricuspidale o ablativa della fibrillazione atriale eventualmente associate.